Il Tribunale di Mansura ha respinto la richiesta di scarcerazione per Patrick George Zaki, l'attivista iscritto al Master dell'Università di Bologna, arrestato appena rientrato in Egitto, suo paese natale, l'8 febbraio, con accusi di propaganda eversiva. L'udienza è durata appena 10 minuti. Come riportato dall'Agenzia ANSA, lo studente dell'Ateneo bolognese per cui si sta mobilitando la comunità universitaria italiana e internazionale avrebbe spiegato al giudice di essere solo un ricercatore rientrato a casa per salutare la famiglia e di volere tornare in Italia per terminare i corsi. C'è delusione? Avevamo sperato in un esito diverso, ha commentato Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Adesso ripartiamo con una campagna ancora più forte e più viva. Fisicamente sta bene, ha spiegato uno dei legali di Zaki, è solo molto spaventato. Mentre la famiglia dello studente si è chiusa nel silenzio, sono state tante le reazioni dopo la decisione del Tribunale. Sono molto amareggiato, ha commentato il rettore dell'Università di Bologna, Francesco Ubertini. Continueremo a mantenere alta l'attenzione su questa vicenda. Guardiamo con enorme preoccupazione a ciò che sta accadendo, non intendiamo certo abbassare la soglia di attenzione, ha aggiunto il governatore Stefano Bonaccini. Continueremo a chiedere la liberazione del giovane ricercatore e il pieno rispetto dei diritti umani, condizione sempre rinunciabile. Procede anche un'organizzazione per il grande corteo che lunedì, prima dell'altra audienza in calendario il 22, in cui si deciderà se rinnovare la detenzione preventiva di Zaki, partirà dal rettorato alle 18 e arriverà fino a Piazza Maggiore. Tante adesioni per chiedere che Patrick possa tornare libero a terminare i suoi studi e possa riabbracciare la sua famiglia. Oltre al rettore ci sarà anche il sindaco Virginio Merola e i rappresentanti delle Sardine. Grazie.